Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 5 giugno, vediamo quali sono i temi fondamentali sui giornali. Tanto al tema, secondo il Corriere della Sera, che ne fa pagina 2 e 3, e tutti i suoi parterre derroire dei giornalisti giudiziari vengono messi in campo, riguarda il CSM. Così pilotavano le nomine. Sai che scoperta? Io trovo veramente ridicola questa vicenda, perché ci sono due storie. La prima è quella giudiziaria e di ipotesi di corruzione nei confronti di un ex membro del CSM e presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, ex presidente, che si chiama Palamara. 40.000 euro, l'anello, e lui a Quarta Repubblica, lo potete vedere sul nostro sito, insomma che cosa ha detto? Ha detto che non è vero, non ha avuto nessuna attività di corruttela. Dall'altra, quello che esce oggi sui giornali, ma anche nei giorni scorsi, e cioè che i membri del CSM si vedevano la sera per decidere chi nominare come presidente di una procura piuttosto che di un altro. E sono due cose totalmente diverse. Una cosa è la corruzione e l'altra sono le correnti. Poi certo, quando leggi Cascini, che è un membro autorevolissimo del CSM, autorevolissimo perché potente, che dice che in realtà non si tratta di elementi correntizi, ma di personalismi, cioè scarica su Palamara tutto quello che è successo, allora dice che questi sono veramente degli ipocriti, come dice giustamente oggi Merlo sul foglio. Ma la sostanza è molto semplice, e cioè che c'era Palamara che non voleva che venisse nominato presidente, voleva un successore a Pignatone e aveva in antipatia Ielo, che sono due procuratori a Roma, e cercava di far tutto insieme, purtroppo per lui con dei politici come Lotti e come Ferri, che è magistrato e anche politico del PD, cercava di manovrare queste nomine. Mi sconvolgo? No, non mi sconvolgo, mi sarei sconvolto se avessero preso dei soldi, ma sul fatto che le correnti nel CSM continuano da anni a fare questo mercimonio, e poi fanno i fenomeni, e poi indagano, e poi arrestano, e poi con questa puzzetta ci raccontano che la politica è in marcia, insomma, non è che uno la deve guardare sempre come scontro tra poteri, però obiettivamente quello che dovrebbe essere l'organo di governo della magistratura è diventato veramente, semplicemente la spartizione presieduta dal Presidente della Repubblica della magistratura italiana. Intervista del Cavaliere oggi sul giornale, sul Corriere della Sera, intervistato da Paola Di Caro, ora rinnovo Forza Italia, ma senza liti, dubito, perché le liti mi sembra che ci siano e come. Favoloso oggi Cassese sul Corriere della Sera. Chiudono i porti, ma non si limita all'immigrazione. Allora uno va a leggere cosa dice Cassese, dice sapete perché non serve a nulla chiudere i porti? Perché ci sono 8.000 km di coste. Inoltre l'Italia non è invasa dagli immigrati, di cui invece abbiamo bisogno. Uno potrebbe dire coraggioso Cassese, no, io dico che dice soltanto stronzate, perché, vedete, i porti forse possono non servire, e anche a Quarta Repubblica tante volte abbiamo testimoniato come ci siano anche degli sbarchi fantasma. Ma non sono fantasma, sono i soliti sbarchi che ci sono sempre stati e che non avvengono più con le ONG, cioè con i taxi che li andavano a prendere. Taxi non comodi, ma pur sempre taxi erano. Allora, la sostanza è semplicemente questa, che bisognerebbe spiegare a Cassese, a tutti quelli dell'accoglienza, a tutti quelli che per anni ci hanno detto che l'Italia poteva accogliere chi le pareva, che in realtà l'Italia ha un problema in migrazione, perché ci sono 600.000 persone, accumulate negli ultimi dieci anni, che non hanno un lavoro in Italia e vengono qua senza casa, senza lavoro, senza sanità, senza documenti, senza prospettive. Vogliamo pensare che questo non sia un'emergenza? Se pensiamo che non sia un'emergenza siamo Cassese, o siamo Zagrebeschi, o siamo uno che vive alla Corte Costituzionale, in quel triangolo che sta tra Quirinale, Palazzo Rospigliosi e la Fontana di Trevi. Ma chiunque sa che avere 600.000 persone, oltre ai disoccupati italiani, che non hanno un lavoro e che stanno nelle nostre stazioni o nei nostri portici, è un'emergenza. Lo sarebbe se ce ne fosse una. Ce ne sono 600.000, cazzo. Soltanto Cassese non se ne accorge. 8.000 km di coste. Certo che possono arrivare a 8.000 km di coste. Sono arrivati in Sardegna, qualche volta sono arrivati anche nelle coste da Puglia. difficilmente, immagino che possono arrivare a Venezia o in Liguria. Ma che cosa c'entra? Almeno qualche cosa si deve fare per bloccare l'immigrazione. O no! O in questo paese, caro Cassese, tutti possono venire. Ma se andare in una democrazia normale, l'America, dove non mi sembra che tutti possono entrare come gli pare. E non perché oggi c'è Trump. Anche con Obama ieri. Governo, la pace armata. Questo è il tema sul fatto che ieri Di Maio e Salvini si sarebbero sentiti, dice il tempo via smartphone, ma soprattutto, come dice il giornale, c'è stato il baratto, il salva Roma con lo sblocca cantieri. Cioè, sostanzialmente, la legge che stava chiaro a cuore ai grillini, cioè lo spalmare il debito di Roma, che poi solo le 24 ore ci dice che varrà per tutti i comuni in dissesto, e dall'altro lo sblocca cantieri, cioè che per due anni si deroga, sostanzialmente, ma la cosa dovremo vedere nel dettaglio nei prossimi giorni, a quell'inutile codice degli appalti, che più che inutile ha distrutto il sistema degli appalti in Italia. Mi chiedo, ma chi l'ha fatto il codice degli appalti? Questi incompetenti o i competenti che c'erano prima? Cioè, stiamo attenti sempre a tracciare e chiudere la mela in due, da una parte i competenti e gli altri incompetenti. Quel codice degli appalti è un disastro. E quando la Confindustria piagnucola oggi, che non si fa nulla, vero, perché Toninelli, quel poco che si faceva, lo cancella, beh, insomma, piagnucolava tanto quando facevano questo codice degli appalti, ve lo ricordate che stava in piazza contro il codice degli appalti? No, eppure fu una cazzata, no? Il codice degli appalti, almeno a sentire quello che dicono oggi, il codice degli appalti, che hanno fatto i precedenti i governi. La verità è sventato, dice Belpietro, il primo tentativo di spallata, il foglio, beh, insomma, è molto divertente la tesi del foglio, che si chiama breadcrumbing, e sarebbe quell'attività che si ha tra i millennial di lasciarsi. Cioè, ti do una cosetta, poi ti richiamo, poi ti mando un messaggino e poi te lo tolgo, e poi ti rimando un altro, ti vengo a prendere, poi non ti vengo a prendere, ci vediamo, non ci vediamo, il bacetto, la carezza. Insomma, il breadcrumbing, cioè l'atteggiamento che hanno i millennial nel tenersi e lasciarsi, questi rapporti intermittenza degli millennial, è quello che caratterizzerebbe il rapporto oggi tra Di Maio e Salvini. Endorsement a Conte, che trova un nuovo padrone, un nuovo padrone, insomma, lo strillone del Movimento 5 Stelle, passa da Di Maio a Conte, che dice Travaglio, rappresenta la maggioranza di italiani. Sono fantastici questi giornalisti italiani, che sempre pensano che ci sia qualcuno che rappresenta gli italiani, che loro, bene o male, difficilmente possono conoscere la loro globalità. Ma lui lo sa, Conte rappresenta la maggioranza di italiani. Bene. Del Viscovo fa un pezzo molto bello sul giornale, perché che cosa ci spiega oggi il giornale? Che se anche si abolissero tutte quante le auto, cosa ovviamente non possibile, queste comprometterebbero, comportano una riduzione delle emissioni di CO2, che non è un inquinante, ma oggi viene visto come un inquinante, comunque è un gas serra, che vale questa riduzione delle emissioni di CO2, lo 0,01% delle emissioni totali. Stiamo rompendo le balle alle macchine per distruggere un'industria, che peraltro, come abbiamo visto, su FCA Renault lo scrivono tutti i giornali, lo scriveva meglio ieri che ieri, ma lo scrive molto bene oggi Bonora sul giornale, beh, insomma, con FCA Renault che si impippano con l'auto elettrica e faranno diventare francese l'italiana FCA, che già non lo era. La storia di Noa, beh, è una storia di eutanasia, dicono tutti i giornali, la 17enne che fu stuprata da bambina e che si è uccisa in Olanda. Beh, Brambilla sul quotidiano nazionale non ha vinto la sua grande battaglia, come ha titolato ieri un grande giornale, e su questo non c'è dubbio, cioè quando un giornale dice no, ha vinto la sua grande battaglia, morendo, beh, insomma, direi che forse non è proprio la vittoria di una grande battaglia. Così come Nicoletti oggi fa un altro molto bel pezzo sulla stampa, in cui dice l'angoscia, di cui questa ragazza soffriva, ma direi un po' più di angoscia, depressione, che è una malattia, non è esattamente l'angoscia, ma comunque la depressione, l'angoscia non è un male terminale, insomma, vado a dire depressi, forse un male lo è, la depressione da non sottovalutare, adesso la sottovalutazione dei mali psichici rispetto a quelli fisici, da parte di Nicoletti non me la sarei aspettata, ma resta il concetto che dice lui si può guarire. Comunque tutti contro a questa eutanasia di una bambina di 17 anni, di una ragazzina di 17 anni, sconvolta ma non malata in maniera terminale, e obiettivamente uno la pensa abbastanza così. Se non che ho letto un tweet, io non sono specializzato di queste cose, neanche poi mi piacciono moltissimo, perché questi sono i confini, diciamo, tra la coscienza, l'etica e la moralità, che non riesco a frequentare molto bene, ma leggo Cappato, radicale, quello che portava ad ammazzarsi le persone in Svizzera, che dice, scusate, fermi tutti, ma l'Olanda non ha mai autorizzato l'eutanasia nei confronti di questa ragazza, anzi, ha detto di no, e lei che poi si è lasciata morire non mangiando e non bevendo. Quindi è un po' diverso rispetto a come tutti i giornali la raccontano, cioè l'Olanda non l'ha permessa l'eutanasia, forse direi io, non l'ha impedita, che cosa molto diversa, anche se bisogna discuterne a lungo. Cappato è delirante, terribile la depressione, capisco l'eutanasia, soffriva troppo, dice qualcuno, etica sottile in questo caso, vabbè, insomma, un sacco di commenti sulla storia di Noa, documento UE arriverà oggi, ma Repubblica già lo anticipa, dicendo che l'Italia è sostanzialmente finita, l'avvio della procedura del debito, mentre invece Barbera sulla stampa ci spiega che faranno un taglio di 3,5 miliardi, Tria lo ha già promesso in minori spese. Un dato positivo, cioè, sull'economia, ed è incredibile, e ieri soltanto il Milano Finanza titola la prima pagina sul fatto che la Federal Reserve, cioè la banca centrale non europea ma americana, avrebbe deciso a luglio di tagliare i tassi di interesse per dare un altro boom a un'economia che sta dando alla grandissima. I titoli sul mercato americano ieri sono saliti e questa forse è la notizia macroeconomica più importante che ci riguarderà quest'estate. Ma ovviamente oggi a titolare solo il giornale specialista nella finanza, Milano finanzia. Finanza, non riusciamo a capire come mai se paghi ticket in Milano entri anche con Eurozero. I soldi puliscono l'aria, è risaputo. Si può guarire di depressione o meno proprio come di varie malattie fisiche, dice Paola. Povera stella, dice Anna. Io vi saluto a tutti quanti, vi do appuntamento sul sito in cui, come sempre, siete abituati ad andare, nicolaporro.it. Ciao, pezzo di battaglia che farà discutere sui bambini morti, secondo la denuncia dei Verdi, a causa dell'Ilva. e smonta quella che considera una bufara il professore battaglia. Sul sito nicolaporro.it. Ciao.